Poi arriviamo anche all'aspetto politico, arriviamo al suo cambiamo, a furia di cambiamo, qua cambiano tutto Toti, ha lanciato lei qua la cosa cambiamo. Beh cambiamo, non vorrei di aver dato brutte ispirazioni in questo estate. Sicuramente bisogna cambiare il rapporto tra lo Stato e la Regione, bisogna andare verso quell'autonomia differenziata che si è bloccata col passato governo, vedremo cosa farà questo, ma insomma non sono particolarmente ottimista visto che erano i 5 Stelle, che sono parte anche di questo governo, ad avere molte perplessità. Quello che è successo in Friuli succede normalmente in tutte le Regioni, oggi è accaduto diciamo alla start-up di questo nuovo governo e quindi ha fatto molta polemica, ma io ricordo almeno una decina di leggi che mi sono state impugnate dai due precedenti governi in questa Regione, tutte leggi che sono convinto che i Liguri vorrebbero, dai criteri di assegnazione delle case popolari a leggi legate al gratuito patrocinio sulla legittima difesa, tutte cose che ritengo non turbassero francamente l'ordine istituzionale e democratico di questo Paese. Quindi diciamo che dopo un periodo in cui le autonomie hanno avuto una gran moda, poi c'è stata una restaurazione centralista molto potente negli ultimi 5 anni, 6 anni, diciamo da governi monti in poi, ritengo che questo sia francamente sbagliato, potrei declinarlo in molti modi, da come si scrive la legge di stabilità dove comuni e regioni hanno dato il contributo più ampio in termini di soldi, mentre il governo poca dieta ha fatto per la verità sotto tutti i governi, all'intromissione a gamba tesa sulla Corte Costituzionale di molti provvedimenti che francamente da cui non dipende l'ordine e l'unità del Paese, cosa su cui il governo certamente ha titolo interessato, ma anche di criminalità. Adesso poi torno da lei tra poco perché voglio passare al tema politico, centrodestra e quant'altro.